Per trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Rinvenute siringhe nei MUSP a Sulmona, i genitori degli alunni sono pronti alle ronde ma chiedono più controlli. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Spuntano siringhe nei MUSP collocati nell'ex caserma Cesare Battisti e il Comitato Scuole Sicure si mobilita con le ronde autonome per garantire sorveglianza. L'episodio conferma che il fenomeno rappresenta una vera e propria piega sociale, tanto da far preoccupare non poco i genitori. Quell'area, puntualizza il Comitato Scuole Sicure, è frequentata da bambini che hanno il diritto di giocare e vivere serenamente lo spazio dentro e fuori la scuola. Proponiamo a chi è preposto alla tutela e sorveglianza degli alunni e dei cittadini residenti nella zona di intensificare i controlli delle forze dell'ordine e del servizio metronotte. In extremis è possibile anche organizzare una ronda da parte dei genitori volontari nelle ore più sensibili della giornata per fungere da deterrente per drogati e individui malintenzionati. Una denuncia è stata presentata dal dirigente scolastico Daniela Minigni. Ho già provveduto con denunce al comando dei carabinieri, al comune, e ovviamente mi sono attenuta le regole per lo smaltimento. Il controllo da parte dei carabinieri verrà intensificato come da richiesta annuncia alla preside. Sono circa 300 gli alunni che frequentano le lezioni in EMUSP dell'ex caserma Battisti, un luogo dove le siringhe non dovrebbero proprio entrare. E adesso ci occupiamo della situazione dell'Istituto De Nino Morandi di Sulmona. Dopo tre anni c'è l'incarico per la progettazione. Corsa contro il tempo dunque per la sede alternativa. Sentiamo tutto. Affidato l'incarico per la progettazione al De Nino Morandi di Sulmona. Di tempo ce n'è voluto, più di tre anni, prima di procedere a un affidamento formale, ma la strada per il ritorno a casa è ancora lunga. La giudicazione dell'appalto serve per definire esattamente le difformità e i costi per eliminarle. Una fase che richiederà almeno 3-4 mesi e successivamente si potrà avviare la procedura di una nuova gara d'appalto per l'adeguamento sismico della scuola. Dall'inizio dei lavori al collaudo sono necessari circa 3-4 anni, che potrebbero allungarsi se le risorse finanziarie residue non saranno sufficienti e se non vi saranno ricorsi. I tempi quindi restano biblici, come è stato comunicato nelle scorse settimane dal proprio ritorato al comitato ex-docenti, ma le istituzioni si stanno muovendo per trovare piano B, rientrare a Sulmona prima del previsto, ma in un'altra sistemazione. La corsa contro il tempo è partita dal momento che per settembre i tempi sono brevi e la ricerca dei locali va fatta tramite regolare e bando, ma la provincia dell'Aquila con il suo consigliere Mauro Tirabassi è intenzionata a percorrere questa strada. Va avanti nel frattempo la petizione lanciata dagli ex-alunni, che ha raggiunto la soglia delle mille firme, ma si punta a incrementare le adesioni dal momento che la raccolta avviene anche negli esercizi commerciali al Palazzo di Giustizia e in alcuni paesi del circondario. E adesso aggiornamenti di cronaca. Falso invalido, smascherato dalla Guardia di Finanza della compagnia di Avezzano, l'uomo percepiva la pensione di invalidità civile che gli era stata riconosciuta grazie alle false patologie di cui non era affetto. Una truffa che ha permesso a questa persona di smettere di lavorare a 49 anni. Adesso l'individuo ha 59 anni. E' dunque è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Avezzano ed è il falso invalido e anche amministratore di un noto centro di riabilitazione della Marsi che è stato denunciato dagli uomini della Guardia di Finanza su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha anche disposto il sequestro di oltre 200 mila euro di immobili e quote societarie insomma percepita indebitamente dalla Guardia di Finanza fanno sapere che il provvedimento nei confronti del falso invalido arriva al termine di indagini a largo raggio volte proprio a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione previdenziali per invalidità civile. Patente di guida ritirata per oltre un anno perdita di 10 punti e denuncia sono le sanzioni cui andrà incontro un 27enne della provincia di Chieti che la Polizia Stradale ha sorpreso a guidare in stato di ebrezza affermato nelle prime ore di questa mattina nell'ambito di controlli finalizzati a prevenire la guida sotto l'effetto di alcoli stupefacenti e sottoposti alla prova dell'etilometro ha rivelato un tasso alcolico di oltre 4 volte il limite consentito dalla legge nell'ambito degli stessi controlli attuati da 5 pattuglie solo la notte scorsa la Pol Strada di Chieti ha ritirato 10 patenti in gran parte a giovani tra i 20 e i 30 anni i controlli hanno fatto sapere dalla Polizia Stradale di Chieti saranno ripetuti nei prossimi fine settimana Lasciamo questi aggiornamenti di cronaca torniamo a Sulmona per occuparci del centro storico quattro multe in sei giorni primi effetti dunque dell'ordinanza antidegrado sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio quattro multe elevate dalla Polizia Municipale nel giro di sei giorni il report della prima settimana di controlli arriva dall'assessore comunale Cristialla Civita a margine di un incontro con la Polizia Locale sta prendendo piede l'ordinanza antidegrado sul centro storico emessa nelle scorse settimane dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini all'indomani della massiccia protesta dei commercianti che lo scorso primo marzo hanno abbassato la sala cinesca per protesta i controlli a tappero della Polizia Locale sono cominciati lunedì scorso e i proprietari dei negozi sfitti stanno provvedendo a riportare ordine e decoro nelle vetrine pur di non incappare nella contravvenzione che vada un minimo di 25 e un massimo di 500 euro i primi effetti quindi si stanno vedendo anche se i residenti e i operatori commerciali chiedono di andare avanti e quindi di applicare l'ordinanza che prevede fra le altre cose di tenere pulite da scrittere a tutto ciò che genera degrado le facciate degli edifici che prospettano sulla pubblica strada tenere pulite le sala cinesche eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le sala cinesche e le vetrine tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con pannelle dei colori monocromi tenuti in modo che gli interni non siano visibili mantenere lo stato di decoro dalle vetrine nella parte visibile interna se non si è proceduto a un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine che comunque devono essere mantenute prive da ogni messaggio pubblicitario non autorizzato a eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo e dell'offerta di vendita o locazione nel frattempo va avanti la concertazione sulla pedonalizzazione da sperimentare in corso video una proposta sarà portata all'attenzione dei portatori di interesse dall'assessore comunale Cristia Lacivita adesso ci occupiamo del centro anziani di Sulmona l'addio dei gestori al bar fra sfogo e polemiche sentiamo chiedono di chiudere il centro anziani dopo il provvedimento emesso da Palazzo San Francesco sulla cessazione dell'attività del bar e sollecitano il sindaco Anna Maria Casini a convocare l'incontro urgente richiesto lo scorso 22 febbraio il centro anziani dell'ex caserma pace resta in balia delle polemiche a rincarare la dose è stata l'ordinanza emessa dal dirigente del settore attività produttive Katia Panella che ha ordinato la chiusura del bar e ha combinato al centro una sanzione di 5.000 euro a un DG si sfogano gli ex gestori del bar se il bar è stato chiuso anche per mancanza del certificato di agibilità allora perché non si provvede a chiudere tutto il centro si chiedono i due facendo notare che tutto è partito da una missiva che il presidente del centro anziani spedì al demanio il nostro non era un bar a scopo di lucro ma serviva a dare solo un po' di ristoro ai soci tant'è che l'attività si svolgeva solo all'interno proseguono ricordando che assieme ad altri soci del centro avevano chiesto un incontro a primo cittadino e attendono ancora una risposta ad onor del vero l'ordinanza della panella parla di chiusura perché l'attività di somministrazione al pubblico non è compatibile con l'uso gratuito della struttura ma gli ex gestori non si arrendono adesso la politica aquilana nessun rimpasto all'orizzonte per la giunta comunale dell'Aquila nessuna incompatibilità per Luigi Deramo eletto in quota Lega alla Camera dei Deputati che quindi rimarrà in giunta almeno fino alle prossime regionali momento in cui molti amministratori aquilani scenderanno in campo con rinnovate ambizioni il vento è cambiato e con il PD ai minimi termini molti appetiti si sono accesi nel centro-destra per il sindaco Biondi la questione di impasto di giunta non si pone sull'attuale tavolo politico l'elezione di Luigi Deramo ha infatti affermato il primo cittadino non è incompatibile con il ruolo di assessore per cui finché può continuare a dare il suo contributo in giunta la questione di impasto non si pone almeno nel breve termine ma l'impegno per un unico grande rimpasto comprendente le deleghe dell'assessore Luigi Deramo e quelle di eventuali eletti alle prossime elezioni regionali potrebbe attendere il sindaco Pierluigi Biondi subito dopo la competizione regionale che si terrà tra l'autunno e la primavera prossima e adesso la politica sulmonese finanziaria e situazione politica dopo due mesi torna a riunirsi il Consiglio Comunale sentiamo quando nel servizio di Andrea D'Aurelio messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio omessa presentazione della domanda dei contributi previsti della finanziaria 2018 discussione della situazione politico-amministrativa avviso pubblico regionale e comunicare per proteggere approvazione schema di convenzione sono questi temi più caldi della seduta del Consiglio Comunale di Sulmona che torna a riunirsi martedì 20 marzo alle 16.30 dopo più di due mesi l'ultima seduta a Palazzo è stata celebrata in effetti lo scorso 12 gennaio ma allora si trattava di un Consiglio Comunale per approvare l'ennesima delibera contro la centrale di compressione SNAM c'è stata quindi una doppia seduta il 22 dicembre quella con un elenco di punti al mattino e poi quella pro-tribunale nel pomeriggio ora si torna a Palazzo e fra i punti c'è la discussione sulla situazione politico-amministrativa che è rimbalzata nei vari ordini del giorno senza essere stata ancora trattata la seduta si aprirà con l'approvazione dei verbali delle sedute ai consigliari precedenti poi le comunicazioni del Sindaco in merito alla composizione della Giunta Comunale l'avviso pubblico regionale comunicare per proteggere l'approvazione dello schema di convenzione l'avviso pubblico regionale sulle istituzioni locali con l'approvazione di schema di convenzione comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva discussione situazioni politico-amministrativa messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio con omessa presentazione della domanda di contributi previsti della finanziaria 2018 interrogazione e gestione loculi cimiteriali interrogazione sulle problematiche di via del Cavallaro interrogazione in ordine alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente taglia le corse sulla Sulmona Roma la di Nino Bacchetta la Regione sentiamo numerosi pendolari che da Sulmona Pratola e le altre realtà del comprensorio Pelinio si spostano ogni giorno verso la capitale non sono utenti di serie B e a loro va la mia solidarietà e il mio sostegno sono le parole del sindaco di Pratola Pelini Antonella Di Nino che non resta indifferente è la notizia che arriva dal comitato pendolari tua sul taglio delle corse sulla tratta Sulmona Roma se la Regione Facile non dovesse intervenire per fugare dubbi o evitare che quanto evidenziero dal comitato pendolari sui tagli alle corse da Sulmona per Roma trovi conferma da 1 aprile allora ci troveremo ancora una volta di fronte al maltrattamento puntuale delle aree interne e non è francamente più accettabile interviene nella di Nino spiegando che non è pensabile che tutte le ipotesi di riorganizzazione proposte dalla tua contemplino tagli di corse e altre criticità solo per i cittadini di questa parte della Regione La Regione scongiure i timori dei pendolari lo faccia subito occupandosi una volta tanto del governo del territorio e metta da parte tutte le pantomine su dimissioni rimpasti e strategie sempre distanti dei problemi della gente Anche questa volta sarò in prima linea a difesa delle rivendicazioni legittime dei pendolari per inni se i dubbi e le voci dettagli di queste ore dovessero trovare conferma conclude il sindaco Questa mattina a Capestrano al convento di San Francesco si è svolto il convegno Il diritto tra i fondamenti della cultura europea Giovanni da Capestrano che ha indagato i rapporti tra diritto politica e teologia in Giovanni da Capestrano il santo francescano studioso ed esperto giurista che durante il rinascimento ha combattuto con tenacia alcuni mali della società di quel tempo come l'usura e il gioco d'azzardo proprio questi due temi hanno dato spunto al comandante regionale della Guardia di Finanza uno dei relatori dell'incontro Flavio Agnello di incentrare il suo intervento su Giovanni da Capestrano quale fiamma gialla ante litteram ho trovato questa chiave di lettura che si ricollega all'attività della Guardia di Finanza ha spiegato il generale Agnello cercando di cogliere come alcuni dei suoi insegnamenti di quel tempo si legano al lavoro dei finanzieri mi riferisco ha aggiunto in particolare ai fenomeni dell'usura e del gioco d'azzardo legati da un collante particolare come il denaro ecco da qui ho cercato di capire come questi fenomeni si sono ripercossi anche nella nostra società e così sono arrivato a questa definizione in generale l'incontro di oggi a Capestrano ha voluto mettere di salto l'importanza di San Giovanni da Capestrano quale esperto giurista aveva studiato da giovane a Perugia in una delle migliori scuole d'Europa che ha portato questo suo bagaglio culturale nell'attività di predicatore e teologo tra i più seguiti del suo tempo un aspetto quest'ultimo di una modernità ancora poco conosciuta adesso ci occupiamo di un evento organizzato dalla condotta Peligna di Slow Food che anche quest'anno propone la cena evento fuori menù in programma il prossimo 21 marzo il servizio di presentazione è a cura di Barbara Nelle Monache con l'inizio della primavera la condotta Peligna di Slow Food rilancia il progetto del circuito dei ristoranti della tradizione gastronomica del centro Abruzzo con la cena evento fuori menù il prossimo 21 marzo presso il ristorante Villa Elena Evans in questo terzo appuntamento ad alcuni importanti ristoranti Villa Letizia di Prezza il caminetto di Campo di Giove Boccaccino Osteria di Castel di Sangro e Borgotufi di Castel del Giudice sarà affidato il compito di cucinare i piatti maggiormente rappresentativi ed identitari del territorio ed ispirati alla primavera alla Pasqua e alla montagna le edizioni precedenti della prestigiosa Kermes culinaria hanno fatto registrare un clamoroso successo con una media di oltre 100 partecipanti a serata e già 13 ristoranti coinvolti nella valorizzazione delle materie prime locale e delle eccellenze della Valle Peligna L'evento del 2018 non vuole essere da meno e per sottolineare la necessità di collaborazione a tutti i livelli per il rilancio delle aree interne abruzzesi amplia i confini gastronomici e territoriali e chiama al fianco di cucine locale e cuochi provenienti da zone limitrofe e gemelle Il progetto del Circuito dei Ristoranti della Tradizione Gastronomica è inteso a valorizzare il territorio e le imprese che vi operano dando successivo impulso anche a quelle forme di turismo enogastronomico ed esperienziale che il nostro territorio deve esprimere attraverso un progetto condiviso multisettoriale ed inclusivo di tutte le realtà che possono contribuire alla valorizzazione del centro abruzzo proprio per questo abbiamo ascoltato il fiduciario della condotta perigna di Slow Food Giorgio Davini Fuori Menù ormai è giunta la terza edizione è un grandissimo successo che sicuramente proseguirà e anche stavolta ancora quattro ristoranti a proporci dei piatti diversi ne abbiamo invitati un po' da tutte le parti del nostro territorio e quindi sarà senz'altro una serata indimenticabile ad impreziosire la serata oltre ad aggiungere ulteriori di importanti significati al progetto si conferma la presenza dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso che sarà parte attiva dell'evento guidati con esperienze e professionalità dei docenti di aspiranti giovani cuochi si metteranno alla prova nella preparazione di alcuni piatti oltre che occuparsi del servizio e dell'accoglienza degli ospiti il dirigente Massimo Di Paolo impegnato nell'opera di nuovo rilancio di questa eccellenza scolastica ha voluto così evidenziare lo stretto rapporto che la scuola ha con il mondo del lavoro e soprattutto con il futuro del nostro territorio è possibile prenotare per questa cena evento viando una richiesta all'indirizzo prenotazioni.pelinia chioracciolagmail.com oppure direttamente presso l'enoteca Bonovino e Caffè di Via Mazzara Sulmona La regione Abruzzo si candida per ospitare nell'interporto di Manopello un progetto europeo che consiste in una macchina sperimentale da 500 milioni di euro destinata a fornire risposte chiave sulla fattibilità scientifica e tecnologica della fusione nucleare la forma di energia che riproduce i processi interni alle stelle la presentazione ufficiale della candidatura c'è stata oggi a Pescara quello dell'interporto di Manopello è il migliore sito e siamo convinti di poter vincere questa sfida ha dichiarato il presidente dell'esecutivo abruzzese Luciano D'Alfonso al 31 gennaio data di scadenza del bando promosso da Enea avevamo risposto presentando formale candidatura non solo l'Abruzzo ma anche Campania Emilia Romagna Toscana Lazio Liguria Piemonte Puglia e Veneto l'Enea ha reso noto nelle scorse settimane che la decisione sul sito sarà presa entro il prossimo 10 aprile e adesso il calcio nel campionato di serie D è stato annullato il rinvio della gara Pineto Nerostellati che si giocherà regolarmente nella giornata di domani nel nostro servizio presentiamo anche gli impegni delle altre formazioni periglie Nel girone F di serie D era stato inizialmente stabilito il rinvio a mercoledì 4 aprile della gara Pineto Nerostellati come riportato nel comunicato ufficiale della Lega Nazionale di Lettanti del 13 marzo per la presenza nei pinetessi di un calciatore impegnato al torneo di Viareggio il posticipo è stato però successivamente annullato in seguita ad un accordo tra le due società senza provvedere ad avvisare gli organi di informazione dell'avvenuta modifica tant'è che il sito di tutto campo fino a questa mattina riportava ancora la data del 4 aprile e nel comunicato di ieri della Lega Nazionale di Lettanti non era stato indicato il ripristino al 18 marzo Pineto Nerostellati dunque non sarà più rinviata ma si disputerà regolarmente domani alle 14.30 al Mariani Pavone la squadra di Di Corcia dopo il successo a San Marino affronterà il match senza lo squalificato Giallonardo arbitrerà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino nella tredicesima di ritorno del girone B della promozione impegno del Sulmona contro la Val di Sangro al Monte Marcone di Atessa dopo due trasferti a secco di risultati i ragazzi di Sergio Lone vogliono provare a risalire la china perché l'attuale quinto posto non basta per raggiungere i play-off il compito non è facile in quanto la quarta posizione occupata proprio dalla Val di Sangro è distante di 10 lunghezze gara casalinga del Raiano contro il Piazzano entrambe sono fuori dalla zona play-out con la formazione a Tessana avanti di tre lunghezze il tecnico Antinucci non avrà a disposizione lo squalificato Sissè confronto interno anche per la Virtus Pratola che ospiterà il Bucchianico con l'intento di ottenere il terzo risultato utile consecutivo per provare ad uscire dalla zona play-out l'allenatore Cristiano Colella non potrà contare sugli squalificati Saccocce e Villani nella decima di ritorno del Girone C della prima categoria aspettando l'anticipo di oggi tra Pacentro e Cepagatti ci attesa per le altre gare in programma domani match decisivo per il Mugnara che ospiterà la vicecapolista Sant'Anna cercando di difendere la terza posizione guarda con attenzione a questo confronto il Popoli che si trova a meno 4 dal Mugnara la squadra di D'Ortenzio riceverà il fanalino di Coda Pescina scontro in chiave play-out per la Moronese a Roseto obiettivo non perdere per non essere raggiunti dai rosetani che si trovano tre lunghezze dietro nella nona di ritorno del girone B della seconda categoria impegno casalingo dell'Ovidiana che al Pallozzi affronterà l'Ortigia con l'intento di difendere il posto nella zona play-off che vede i biancorossi in quarta posizione come al solito prima di concludere possiamo vedere la programmazione cinematografica alla multisala Ijoland di Corfinio sono in programmazione i film Tomb Raider alle 18.20 e 21.10 Metti la nonna in freezer alle 18.10 e 21.10 Il giustiziere della notte con proiezioni alle 21.10 mentre al cinema pacifico di Sulmona sono in programmazione arrivato il broncio alle 16.45 Il mio uomo perfetto alle 19.21 e 15. Bene è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 sul canale 18 del digitale terrestre in streaming sul nostro sito www.ondatv.tv oppure sulla nostra pagina Facebook grazie per essere stati con noi ci salutiamo con il meteo buona giornata sulla nostra regione condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con possibilità di precipitazioni più probabili sulla Marsica nell'Aquilano e a ridosso dei rilievi a carattere sparso anche sul versante orientale saranno possibili temporane schiarite ma poi si avranno nuovi addensamenti consistenti associati a rovesci occasionalmente a carattere temporalesco in estensione verso il settore orientale e localmente lungo la fascia costiera possibili nevicate al di sopra dei 1800-1200 metri attenuazione della nuvolosità in serata in nottata e nelle prime ore della mattinata di domani temperature stazionarie ma ancora al di sopra delle medie stagionali in diminuzione nel tardo pomeriggio nelle ore serali e in nottata ad iniziare dal settore occidentale venti deboli dai quadranti occidentali e rinforzo dal tardo pomeriggio e nelle ore serali specie sulle zone montuose sul settore occidentale e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico mare generalmente mosso o localmente molto mosso grazie a tutti grazie a tutti